ciao amici sarebbe bello riuscire a bruciare più calorie con l'attività fisica vero oggi vediamo come allenarsi con il meno tempo possibile e con la massima resa se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video bruciare tante calorie in poco tempo è possibile con un allenamento intenso quando manteniamo alta la frequenza cardiaca stiamo consumando più calorie ecco quindi sei semplici consigli per allenarsi al meglio 1 calcolare la frequenza cardiaca massima la frequenza cardiaca massima equivale a 220 meno la propria età ad esempio una persona di 45 anni dovrebbe allenarsi mantenendo 130 135 battiti al minuto l'ideale è allenarsi al 75 per cento della propria frequenza cardiaca massima 2 tenere sotto controllo il battito cardiaco per tenere sotto controllo il battito cardiaco serve un cardio frequenzimetro oppure si possono calcolare le pulsazioni contando con le dita basta fare una pressione sul polso e moltiplicare i battiti di 15 secondi per 4 3 allenarsi a intervalli interval training soprattutto all'inizio è importante allenarsi spezzando l'allenamento così si mantiene una frequenza cardiaca alta senza affaticarsi troppo meglio fare pause brevi che non rallentano il metabolismo e fanno bruciare più calorie gradualmente si dovranno diminuire le pause e la durata fino a 30 secondi 4 variare la pendenza variare la pendenza in bici sul tapirulano o a piedi fa bruciare più calorie allenarsi in salita è più faticoso e garantisce il miglior risultato in termini di calorie 5 meglio se total body gli allenamenti total body sono quelli che coinvolgono tutto il corpo non solo alcune parti far lavorare tutti i muscoli ovviamente fa consumare più calorie 6 alternare cardio e forza alternare esercizi cardio come la corsa con esercizi di forza fa bruciare più calorie amici allora è possibile bruciare più calorie con il giusto allenamento visto per vedere tanti altri video su come restare in forma e fare i giusti esercizi è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e cercate la playlist dedicata per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale avere cura della forma fisica è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi naturale e vivi meglio